Signori, oggi facciamo Gabilò giardiniere, accetta, cioè non accetta con vabbè battute del cazzo a parte, però praticamente oggi faccio i miei giardinieri, tiè, successivo, successivo, bella per te, quindi mo ci abbiamo qua, mo possiamo pure vendere, non possiamo entrare nel cazzo no eh, allora, Qual è il nostro compito? E che cazzo, qual è il mio compito, cioè scusate, cos'è che vuole? Ah, vuole? Ai, u, ai, e, u, la! Vabbè, li metto questo, che bella sai. Dov'è qua? Dove, dove vuoi che la metto? Tiè. Vai devi tenere premuto Minchia mezz'ora per scavare Ma che stai scavando? Un cadavere Chi è? Chi è? Chi è? Nuova puntabilità Allora veloce Punto più arredato Senza dei giardinieri Erbata visibile sulla minimap Ma veloce Qua devo strappare le erbacce Sì queste Se avete bisogno di qualcosa Chiamatemi pure Contattatemi che io sono un ottimo giardiniere Bellissimo Poi questo metti qua Bello E' mo' giustante E che fai? Ah fai morire la pianta Bello così Qua sono le erbacce Ok Tolgo pure tutte le erbacce Che ci sono Qua non devo togliere Ok tolte Solo pure l'erbacce 75% Ma perché te lo devo togliere io l'erbacce? Eh vabbè giustamente Chiamo un giardiniere Chi è che la deve togliere Se no Stuca Posso vendere questo? Mille Ma che pare Cioè io non posso vendere la tua macchina Come se mi faccio mille euro Si nasconde pure Poi questo praticamente vuole la ghiaia Di che coloro la facciamo? No vabbè ghiaia è così Così non è brutto Che è così normale Chi è? Chi è? Chi è? Porca demonio Olè Vabbè Eh si Perché mo Il vantaggio Cioè che mo Praticamente Quelle erbacce Cioè mo Si vedono di più Cioè vedi queste sono le erbacce Perché prima giustamente non si vedeva E ora si vedeva un po' di più Chi è? Nuova puntabilità Miglioramenti Veloce Arredato Decorazione Gamma di taglio Ma poi Tanto comunque dovremmo mettere tutto Ma poi Poi Qua Non ho fatto niente Piante le piante Che pianta vuoi? Allora Ti è? Le tre palle Che dici? Ok Poi Anche un po' per la ghiaia Ti è? Concludi l'ordine Termina? Eh Pagami Prima e dopo Ti è? Se là L'ho messo di dopo I diversi Ti è? Navragica No è carino C'è C'è Navragica Eh C'è la taglio Foto Mi portavo Ma quanto mi ha dato? Cioè così Tanto per Tanto per domandarmi Eh Quanti soldi mi ha dato? Sì Non si vedeva eh Hai notato Grazie Vabbè Sì grazie E mo Ah Vendi Porca puttana Che palle Si vende il pc? Vabbè Vendo tutto La fanculo Eh no Perché qua Devi Vendi Vendi Navragica A posto Vendi Eh vabbè Vendi No Perché Oh È sempre In biangie Però posso dire Sto bagno Sto coso è Abbastanza Troppo grande Per un bagno Eh Signori Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao